Qualificazione Russia 2018, Germania, formalità Norvegia con gli occhi a Belfast A metà tra la Mercedes-Benz Arena di Stoccarda e Windsor Park di Belfast. La serata della Germania può terminare in festa o in prolungata attesa, a seconda di quanto accadrà sul campo dell'Irlanda del Nord . Il raggruppamento vede infatti i teutonici guardare tutti dall'alto a quota 21 punti, punteggio pieno, con i britannici secondi a quota 16 e le altre più staccate, 9 punti per i ciechi, 7 per Azerbaigiane e Norvegia, 0 per San Marino. . Con ogni probabilità Joachim Lov darà spazio, dal primo minuto a gara in corso, a chi a Stoccarda ha scritto la storia, vincendo la Bundesliga nel 2007. Mario Gomez è quindi l'indiziato per giocare da riferimento offensivo, mentre Sami Chedira dovrebbe riprendere posto a centrocampo dopo il problema al ginocchio accusato settimana scorsa. . Al suo fianco Toni Kroos, mentre Rudiger, altro ex Stoccarda, potrebbe trovare spazio in difesa vicino a Kimmich e Hummels. Hector Pendolino a sinistra, con Müller, o Zile Draxler a supportare l'unica punta Gomez. . Importa spazio ancora a Ter Stegen. Rispetto alla partita scorsa dovrebbero quindi uscire Brandt, Jinter, Stinl e Werner. La Norvegia ha invece diverse assenze con cui fare i conti, Söderlund, Skjöldbred, Hovland, Henrichsen e anche Svensson, uscito acciaccato contro l'Azerbaijan. . Il 4-4-2 di Lagerbach dovrebbe comporsi di Jarstein tra i pali, con davanti a lui la coppia centrale formata da North Vitesk Jelvik, con l'Innes favorito su Elab dell'Aoui per un posto a destra con Ale e Sami a sinistra. . . In mezzo al campo quasi certi di una maglia sono Berge e Johansen, quest'ultimo anche capitano, mentre le corsie potrebbero essere occupate dai cugini Elion Hussi, Mohamed a destra e Tarika a sinistra. In avanti, salvo sorprese, Sorlot dovrebbe affiancare King. . 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